Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, studio Marco Gargini. In A1 in direzione Bologna, 15 km di coda per un incidente avvenuto al km 414 tra Orvieto e Chiusi. Sempre verso Bologna, rallentamenti tra Calenzano, Sesto Fiorentino e il Bivio con la variante di Valico Baccheraia. In A12 in direzione Genova, 8 km di coda tra Massa e Carrara. Sempre in A12 è Pisa Nord chiuso per lavori l'allacciamento tra la 11 con provenienza Lucca e la 12. Si ricorda che è stato indetto per oggi uno sciopero nazionale del trasporto pubblico locale. Autolinea Toscana ha comunicato che lo sciopero riguarda le province di Livorno, Lucca, Massa, Carrara e Pisa. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Autolinea Toscana